Sono molto contenta di essere qua a Bologna e spero di portare tutta questa esperienza in campo per le mie compagne, per lo staff, per il club, per tutti e per ora mi sto trovando molto bene. È stato semplice integrarsi, molte ragazze le conoscevo anche se non avevo mai giocato con loro, però tramite nazionale, 3 contro 3, conoscevo già, quindi sono state da subito molto accoglienti e quindi è stato molto semplice. Molto emozionata, torno a fare l'Eurolega dopo parecchi anni, ero giovane quando ero a Schio, nel 2012-2013 sono stati gli ultimi miei anni in Eurolega, quindi quello mi emoziona parecchio e anche l'esordio in campionato che sarà subito contro la mia ex squadra dove sono stata 8 anni, 8 stagioni e che sarà a Ragusa, diciamo che un inizio bello col botto va bene. Devo dire che portare comunque sul campo al 5 contro 5 le cose del 3 contro 3 alla fine è molto utile perché ok, sì, c'è meno gente, gli spazi sono diversi, però è sempre basket, quindi le letture sono quelle e secondo me ci sono molti collegamenti e può essere molto utile. Spero di portare tramite la mia semplicità, genuità, tutta l'esperienza che posso dare a questo gruppo e speriamo davvero di raggiungere i risultati che vogliamo. Grazie a tutti.